di quello che è la pagina interessata, di cosa stiamo parlando in questo caso? Stiamo parlando di servizi online e freelance, oppure network o networker, che sarebbe il lavoro parallelo a quello che può essere il freelance, il freelance è una sorta di giornalista, è una sorta di blogger, viene individuato come operatore libero, libero dell'informazione pubblica, adesso qui metteremo giù questa bandierina che serve per gli eventuali contatti, questo sign up lo mettiamo giù e andiamo a vedere invece quello che è all'interno del nostro sito, chiaramente non riesco a darvi l'idea, forse sì, forse no, comunque ci provo, è quello che può essere all'interno dell'articolo, è una semplice introduzione per quello che riguarda come si può entrare in contatto con un eventuale lettore di questa pagina, chiaramente poi qui abbiamo tutta una serie di tecniche sulla presentazione, tecniche su come creare, come sviluppare questo tipo di contatto, molto importante, molto decisivo, anche perché poi attraverso il contatto la persona che viene interpellato, che si trova a leggere queste informazioni, può essere più o meno coinvolto nel proseguire e arrivare a un punto ipotetico anche nel fare un acquisto, per esempio, diciamo in poche parole, andando solamente a leggere la parte finale, che potrebbe essere questa, la giudenza così riuscirete a capire di cosa stiamo parlando, praticamente facciamo la pinta che questa sia la pagina dove io ho delle informazioni, ti spiego appunto come iniziare questo tipo di attività, chiaramente questi, diciamo queste bandiere, sono conosciute anche come banner e permettono in questo caso al blogger, a freelance, di dare un punto di riferimento per un contatto, se io faccio clic, automaticamente la pagina mi cambia e mi porta su un vettore che in questo caso è Clickbank, Clickbank è un grossissimo distributore di prodotti, oltre che diciamo articoli e veramente una cosa micidiale e all'interno di Clickbank ci possono trovare tantissimi prodotti che possono essere diciamo rivenduti a loro volta e quindi permetterebbero in questo caso di avere un utile nel chi si trovi poi a dover fare l'acquisto, quindi se io riesco a invogliare questo mio contatto su un prodotto che può essere interessante anche per lui, il presto naturalmente ci auguriamo, mi auguro che vada bene, se questo contatto fa l'acquisto, Clickbank, in questo caso, mi riconosce, diciamo, quindi mi permette di avere un'entrata economica, mi riconosce la mia parcella, la mia quota, come se fosse un rappresentante, quindi lasciamo perdere per il momento Clickbank, questo comunque è l'invito, parte di questo gruppo di networker in questo caso, da quella che è la strategia individuale poi io riuscirò a far sì che attraverso queste 4-5 righe che metto a disposizione ci siano sufficienti parole o comunque diciamo che portino all'azione, quindi che incuriosiscono il lettore in modo tale per cui diciamo attraverso queste parole trovi un suggerimento per andare a vedere che cosa ho in queste foto, diciamo in questo particolare che può essere diciamo un discorso fotografico, vado sempre con le nostre tecniche più avanzate e vedo di darvi una zoomatina per avere un'idea, ecco, queste praticamente sono delle foto dove io metto per la fotografia in questo caso e quindi se durante questo articolo sono riuscito a dare l'idea di cosa sto dicendo, automaticamente come è successo prima per Clickbank, il mio contatto si troverà diversamente su un'altra pagina che gli permetterà poi di vedere quello che gli interessa, cioè in questo caso si trattava di fotografia e quindi lui attraverso questo contatto ha la possibilità di entrare all'interno di un altro grande magazzino, in questo caso è Amazon, dove appunto vengono proposte queste offerte per telecamere, per quello che riguarda diciamo l'ottica, tutto quello che può essere diciamo il reparto, ogni soggetto, ogni camera, diciamo ogni macchina fotografica, chiaramente ci sono vari modelli che io posso andare a scegliere, per esempio in questo caso una SEO 1002, una fotocamera reflex digitale e qui abbiamo tutti i particolari, tramite appunto questi brevi scatti io posso vedere diciamo una prospettiva piuttosto che un'altra prospettiva, quindi mi permettono diciamo di selezionare, di vedere nei particolari la macchina fotografica che mi interessa, questo dicevo appunto è la possibilità di poter diciamo di poter controllare di persona comodamente da casa il prodotto che io possa essere interessato all'acquisto, perché in definitiva se sono un aspirante fotografico o mi piace la fotografia, avrò bisogno di sapere poi come, di che cosa andrò poi a comprare, assolutamente l'acquisto è protetto, per quello che riguarda il circuito che si apre il palo a Mastercard, non abbiate problemi perché i vostri dati sono sicuro e quindi è sempre un invito, si cerca sempre diciamo di evitare delle brutte sorprese, quindi questo è un invito per quello che riguarda appunto Plink Bank, scusate Amazon e questo era rimanendo diciamo sul nostro portale per Astra Big Store, Astra Big Store è un infoshop, appunto vi dicevo quello che può essere l'idea di un blog semplice, senza qualche decina di euro, quindi 20 euro, anche gratis, non faccio nomi perché sennò a un terreno del campo pubblicitario, comunque all'interno poi del sito avrete l'occasione poi di vedere quello che può essere diciamo il contributo che sta cercando di dare per utenti poco esperti, perché chiaramente non avendo pratiche per quello che riguarda il programmatore, per quello che riguarda webmaster, per quello che riguarda diciamo tutte queste nozioni che sono necessarie attraverso invece una semplice attenzione, una semplice anche lettura, poi comunque ci sono i contatti sotto per qualsiasi domanda potete rivolgermi la domanda in questo caso, non so se abbiamo, se non capisco magari un articolo piuttosto che un altro, all'interno dell'articolo poi io posso sempre trovare diciamo chi ha scritto questo articolo e in questo caso vediamo, ecco vedete qui c'è Astra che sono io, c'è il mio indirizzo mail, comunque potete anche sempre attraverso questa landing che sarebbe appunto questa paginetta dove abbiamo visto inizialmente lasciamo il nome, cognome e indirizzo mail e attraverso questa sarete in contatto con me eventualmente per domande o dubbi o quello che può essere diciamo la nostra o il vostro dubbio a riguardo, ecco il vostro dubbio a riguardo, che altro dire se non quello che vi aspetto, mi auguro di vedere le vostre richieste su questa pagina e www.astrabigstore.it e vi dicevo la possibilità di imparare, di sfogliare queste pagine, di trovare contatti, di trovare anche opportunità di lavoro, per esempio come davvero poc'anzi l'idea di questi affiliati che sarebbero i rappresentanti diciamo di 10 anni fa o 20 anni fa, ora si chiamano affiliati all'interno di questi gruppi di lavoro, piattaforme digitali che offrono la possibilità di avere centinaia, migliaia, milioni di articoli, noi possiamo trovare il nostro e eventualmente proporlo a quelli che saranno poi i contatti che andremo a selezionare attraverso appunto queste pagine di servilanding page. Questo è Astrabigstore, mi auguro che la cosa sia stata di vostro piacevole e ciao.